Buongiorno a tutti i tanti di vita e naturalmente anche agli anziani, io qui oggi c'è la fresca e vi ringraziamo di essere qui tra noi e naturalmente Chiara, Sintaca, tutta l'amministrazione qui presenti e rappresentanti. Allora semplicemente due parole in questa giornata, abbiamo chiesto a Don Claudio che insomma è contento di essere qua. Don Claudio è il Vice Rescovo, Vicario Generale della Diocese, quindi il Rescovo non può esserci però è il Vicario di molto 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 volentieri. È già venuto a celebrare le cresime questa primavera e quindi comincia già a conoscere anche la nostra zona e in seminario ha frequentato la teologia con Don Costantino Malcotti che quest'estate era qua in ferie e è venuto su a celebrare alcuni eucaristiche quindi hanno frequentato tanti anni dissimilari insieme e anche per questo conosce magari un pochettino la zona. Adesso il braccio destro del Vescovo, tante soddisfazioni, tante rogne soprattutto da parte di noi, parloci e preti che andiamo da lui e lui di versolpirsi tutte le nostre lamentele, ma adesso ci porterà uno spritzio, veramente un po' di sorriso, un po' di sorriso, quindi possiamo iniziare a conoscere un po' di sorriso. un po' di sorriso, è viscovi un po' di sorriso, conoscere un po' di sorriso, O Santa Vergine, prega per me, O Santa Vergine, prega per me. In questa miserabile infelice, tutti li toccano, soccorri qui c'è. Tutti li toccano, soccorri qui c'è. Questo è il figlio rompio, prega per me. O Santa Vergine, prega per me. Nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il vostro Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, siate benvenuti a questo nuovo incontro con il Signore Gesù, con il Signore Risotto. Siamo qui convocati per fare festa, per ricordare la Natività di Maria, per ricordare il nostro attaccamento a Maria. Per ricordare la nostra devozione, che non è solo devozione, è fede. Ci fidiamo di Maria perché? Perché Maria ci ha portato Gesù. Ci fidiamo di Maria perché è stata la mamma di Gesù. Ci fidiamo di Maria perché è madre anche di ognuno di noi. E come una buona madre ha a cuore il bene di ognuno dei suoi figli. Di ognuno di coloro che si affidano a lei ogni giorno. Beh, vi racconto questo aneddoto che è successo stamattina, tanto per capire il ruolo delle madri. Mia mamma mi ha detto, oddio, proprio ancora questa giornata si brutta, te hai da andare fino a storo. Io non gli ho detto che veniva a Bondone perché se mi dicevo che era a Bondone, rincavo la dose. Allora ogni tanto alla mamma bisogna dire qualche mezza mugia, eh. Proprio oggi che piove. Non preoccuparti perché sta venendo il sole. Eh, ma però io a saperti in giro per le strade. Ma non preoccuparti perché non c'è giorno di Maria che il sole non ci sia. Per voi di Bondone il giorno di Maria, mi diceva il vostro parco, è il giorno successivo alla festa della Natività. E scendendo in macchina e vedendo che il sole si faceva sempre più spazio tra le nuove, mi dicevo, vedi, quel detto è proprio vero. E poi pensando alla mia mamma, pensando al cuore di ogni mamma. Ecco, io penso che anche questa comunità nutri nei confronti della Madonna, nei confronti di Maria, gli stessi sentimenti figliari. Maria è la madre che ha il cuore che non ti succeda nulla. Maria è la madre che vedia, che pensa a te, che prega per te, perché tu possa raggiungere la meta senza problemi. Possa raggiungere la meta nella sua compagnia. Beh, visto che ho già fatto la predica, mi potevo inserire la sua e la araba, adesso non devo dare o no, non devo dare o no, non devo dare o no, ma devo dare o no, non devo dare o no, non devo dare o no, non devo fare o che devo dire. Allora, poi ti dico, adesso, podro, podro, ma adesso dopo queste robe rifilmano, dopo che le... No, no, tutto registrato, dopo tutto cancelliamo. Dopo gli aneddoti siamo qui per vivere un incontro, come dicevo, un incontro di festa, un incontro con il Signore Gesù, accompagnati da Maria. Riconosciamo davanti al Signore le nostre mancanze, riconosciamo davanti al Signore le nostre debolizie e invochiamo di cuore la Sua misericordia e il Suo perdono. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra gioia, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbi a misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei Cieli. E pace in terra, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti beniciamo, ti adoriamo, ti glorificiamo, ti rendiamo grazie per la tua tua ammessa. Signore, Dio, re del Cielo, Dio, Padre, amico perente. Signore, figlio, unigenito, Gesù Cristo. Signore, Dio, agnello di Dio, figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla festa del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei Santo, tu solo sei Signore. Tu solo tantissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio, Padre, amici. Prima. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste. E poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accrisca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viverei a con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. del Signore. Amén. Dal libro del profeta Esaia Dite agli smarriti di cuore Corazzo, non temete. Ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa di Dina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si sfideranno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acqua nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso, sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malpagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, ossio, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede del Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anembo d'oro al tutto, vestito lusciosamente, ed entri anche un povero, con un vestito loro. Se guardate colui che ha vestito lusciosamente gli dite, tu siediti qui, comodamente, e al povero dite, tu mettiti là, in piedi. Oppure, siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi della fede, ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano, parola di Dio. Reggiamo grazie a Dio. Gesù annunciava il Vangelo del Regno, e lui arriva ogni sorta di infermità nel popolo. alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con te e con il tuo giro, dal Vangelo secondo Marco. Glorale a te, Gesù Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapa. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte lontano dalla forma, gli pose quindi le dita negli occhi, negli orecchi, e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, «Effatà, cioè apriti!» E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibivano, più essi lo proclamavano. I pieni di stupore dicevano, «Ha fatto bene ogni caso, fa udire i soldi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Glorale a te, Gesù Signore. Fa udire i soldi e fa parlare i muti. Finalmente il Messia che attendavano. Ecco, finalmente le profezie di Isaia che abbiamo sentito, si apriranno gli occhi dei ciechi, si scriveranno gli orecchi dei sordi, eccetera, eccetera. Finalmente le profezie di Isaia che abbiamo sentito nel brano del Vangelo di quest'oggi, si compiano. Oggi si compiano in Gesù. E noi siamo qui oggi per fare esperienza, più una volta, di Gesù. Siamo qui per incontrare Lui, per sentire forte la Sua presenza in mezzo a noi, per ascoltare una parola che non sia una delle nostre parole, per vivere un incontro e nutrirci di un pane che non è il pane che salvia la nostra fame fisica, ma è il pane che salvia la nostra fame di vita. Di eternità, di bellezza, di felicità. Siamo qui per vivere questo incontro. E Gesù, come abbiamo sentito nel brano del Vangelo di quest'oggi, ci tiene ad avere un incontro personale con ognuno di noi. Quel povero sordomuto non è stato ugualito davanti a tutti. Quel povero sordomuto è stato preso in disparte da Gesù. E proprio perché era sordomuto Gesù non ha sprecato parole, ma ha compiuto dei gesti, dei gesti significativi. Pose le dita negli orecchi, con la saliva gli toccò la lingua. Dei gesti che il sordomuto potesse vedere. Dei gesti che potessero manifestare la vicinanza di Gesù. Il fatto che Gesù condivide la situazione di quel sordomuto diventa un tutt'uno con quel sordomuto. Si accosta a lui per salvarlo, per trarlo fuori da quella situazione che lo vede tagliato fuori da tutti. quel sordomuto purtroppo ha bisogno degli altri, ha bisogno della comunità. Gli portarono, dice il Vangelo, il sordomuto. Vuol dire che questo sordomuto non andò da solo, c'erano degli altri che lo accompagnavano. E questo dice tanto dell'importanza di fare comunità, di essere comunità, di portare gli uni in pesi degli altri, di collaborare insieme. Se dicevo Gesù compie dei gesti che sono solo per quella persona, solo per quel sordomuto. E dopo quando ha compiuto i gesti, allora ecco che parla, perché sa che quel sordomuto può ascoltarlo. È fatale. Apriti. Apriti all'ascolto delle scritture. Apriti all'amore di Dio. Apriti alla misericordia del Signore. Apriti alla grazia che attraverso Maria e la Madre di Dio oggi, anche oggi, si rinnova per ognuno di noi. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù desidera incontrare personalmente ad ognuno di noi. Perché ad ognuno di noi ha da dire apriti. E non stavi niente a dirne che noi ormai, da nella nostra età, non potevamo capirne niente perché le tutte balle. E l'ha detto il parco, ma tu sei detto il parco, ma io lo capisco. Perché quando mi sento dire «Ah, ma noi ormai sei beciotti, cosa vuole lo che finti? Noi altri, o mai, o devi così?» Valle. A qualsiasi età possiamo sentire la parola del Signore. A qualsiasi età siamo chiamati ad aprirci alle graviglie di Dio. A qualsiasi età siamo chiamati ad aprirci alla novità del Vangelo. E che ogni tanto abbiamo paura di incontrare Gesù. Perché mi risulta che un certo Zaccheo ha completamente rovesciato la propria vita. Per cui magari ogni tanto anche noi facciamo i sordomunti perché non vogliamo incontrare fino in fondo Gesù. Perché magari abbiamo paura di cambiare. Non sia mai che ci lasciamo cambiare dall'incontro con Gesù. Ma è proprio qui che c'è la chiave di volta del nostro essere figli di Dio. Proprio qui che sta la chiave di volta della nostra testimonianza cristiana. Apriti. Il Signore ci dice oggi. E insieme a Desaia ci dice coraggio non tenete io sono con voi sempre. Io sono con voi ogni giorno. E insieme a San Giacomo ci dice anche non preoccupatevi perché non faccio favoritismi. Per me siete tutti uguali. Siete tutti figli, fratelli, da amare, da accogliere, da perdonare, da accompagnare, da misericordiare, come direbbe Papa Francesco. oggi siamo qui per vivere questo incontro perché il nostro cuore si apra al Signore. Perché possiamo manifestare attraverso la nostra persona, attraverso la nostra umanità la grandezza di Dio nei piccoli gesti della quotidianità. il Signore Gesù non ci chiede di compiere i miracoli, i miracoli li fa Lui. Ma a noi chiede ogni giorno di saper fare nostro il messaggio d'amore che viene dal Vangelo e mediarlo e viverlo e dimostrarlo attraverso i comportamenti e le parole che siamo capaci di mettere in alto. Buona festa a tutti! Grazie! Apriamo il nostro cuore al Signore ma a Lui presentiamo fiduciosi le nostre preghie. Diciamoli insieme Signore Gesù ascoltaci Signore Gesù ascoltaci O Maria Tu sei a fondamento della nostra fede. La devozione a Te con la semplice preghiera dell'Ave Maria e del Rosario ci accompagna fin da bambini e in tutti i momenti importanti della nostra vita. Accresci e consolida la nostra fede cristiana. Preghiamo Signore Signore e Gesù ascoltaci O Maria Tu sei madre della Chiesa per diretto fidamento di Gesù. Anche se la consideriamo qualcosa di vecchio e ormai fuori moda la tradizione della Chiesa è una grande ricchezza per l'umanità. Fa che possa essere condivisa sia pronta le novità del Vangelo preghiamo Signore e Gesù ascoltaci O Maria Tu sei la patrona della nostra parrocchia che è dedicata alla Tua natività. Con la processione la Tua presenza visita le nostre case e i nostri cuori. Conferma nell'unità la nostra comunità cristiana e civile. Preghiamo Signore e Gesù ascoltaci O Maria Tu sei giovane donna e Madre di Gesù con l'inquietudine ma anche con l'egertia della Tua giovinezza hai saputo dire il Tu sia il Signore. Ispira tutti i giovani ad abbracciare la loro chiamata nei vari ambiti della vita con serenità e responsabilità. Preghiamo Signore e Gesù passi o per la Città O Maria Tu proteggi e accompagni gli anziani nella terza età della vita anche se la nostra società li ignora e li lascia soli gli anziani possono trasmettere ai loro cari il valore di saggezza pazienza e benevolenza. Aiutaci a farne tesoro e a non dimenticarci mai dell'importanza dei nostri anziani. Preghiamo Signore e Gesù Ascolta O Maria queste nostre invocazioni ed esaudiscile in Cristo Gesù nostro Signore. Amén Dio Padre Padre di celebrare questa eucaristia in occasione della festa degli anziani accogli i doni che ti presentiamo il pane come il pane frutto del grano e il sostentamento essenziale dell'uomo fa Signore che l'Eucaristia, che allo stesso tempo pane e corpo di Cristo, sia cibo fondamentale per la nostra anima, che ci dia la forza di andare avanti sempre. Il grappolo d'uva. Dio fa un fagotto per il pranzo, come oggi è bello condividere insieme il momento del pranzo. Ricordiamo però anche le difficoltà dei tempi in cui con questo fagotto si partiva per faticose giornate di lavoro. Fa, Signore, che come terza età siamo in grado di trasmettere ai giovani, con i nuovi linguaggi del tempo presente, i valori che hanno ispirato la nostra vita nei tempi passati. Un mazzo di fiori. Come i fiori rallegano le occasioni giornose e anche quelle meno belle nelle nostre esistenze, così vogliamo ricordare davanti a Te, Signore, tutti i momenti importanti vissuti insieme. Per le grazie ricevute, ma anche per i momenti di difficoltà, vogliamo dirti grazie, Gesù, e ringraziare anche le nostre famiglie che ci accolgono con cura ed amore e tutta la comunità che si è unita a noi oggi. Signore, accogli e benedici. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. E' veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti odiamo e ti benediciamo, per Cristo tuo Figlio, nella festa della maternità della Leata Vergine Maria. Umile Ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme l'imno della tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'Universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O Sanana nel mondo dei cieli, benedetto colui che viene. Nel nome del Signore, osana nell'alto dei cieli. Veramente santo sei il tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo che santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versata per voi e per tutti, in remissione dei più cari. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore Proclamiamo la tua risurrezione Esatto e la tua venuta Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci resi bene di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Lauro e i Presbiteri di Agu. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti affidiamo in questa Eucaristia Don Dino Menestrina, Cimarolli Giacomo, Mantovani Anna e i defunti familiari, un'intenzione di ringraziamento alla Madonna di Pilos, i defunti delle famiglie Omicini, Cimarolli, Gioffre e Iacobino, Andrei, Cimarolli Antonio ed Eros, Cimarolli Fuglio. Dino e tutti, ammi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e Suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, il tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amén. Da figli, ci rivolgiamo al Signore, il gloria, il dono della fraternità, il dono della pace. Diciamo al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e remetti a noi i nostri benediti, come anche noi che remettiamo ai nostri delitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si copia la vera speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu orrei che veni con la tua festa e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Vi donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ci scambiamo con fraternità, il Signore della pace. E con il tuo Spirito. 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 di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena della Dio. O Signore, non so nello di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola che di Dio, ecco quello che toglie i peccati. Vieni, oh madre, in mezzo a voi, vieni mai l'acqua giù, camminiamo insieme a te, verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per l'America. Vieni, oh madre, in mezzo a voi, vieni Maria fa giù, camminiamo insieme a te, verso la libertà. Vieni, oh madre, in mezzo a voi. Vieni, oh madre, in mezzo a voi, vieni mai l'acqua giù, camminiamo insieme a te, verso la libertà. Vieni, oh madre, in mezzo a voi, camminiamo insieme a te, verso la libertà. Vieni, oh madre, in mezzo a voi, vieni mai l'acqua giù, camminiamo insieme a te, verso la libertà. Don Claudio rimane tutta la giornata con noi, condivide con noi pranzo con gli anziani, ecco quindi abbiamo modo di vivere questo momento di fraternità. E dopo ci sarà il secondo tempo, il pomeriggio, ecco con la processione, con la recita di Santo Rosario, così vedrai la santella di Plosch che abbiamo appena, prima abbiamo recitato, ecco detto, durante le premiere. Quindi questo cammino che ci porterai. Benissimo, sono contento anche perché vedo che la roba da mangiare e da bere non la manca, per cui non stargo a digiuno quest'oggetto. Io mi accontento anche di quello che avevo portato su, dove sono reso conto lì per lì, ma era quella. L'era da mettere qui, assurda, insomma, però ti fanno bene da mettere lì perché magari un tocchettino già la tasto. E questa è la famosa poletta del Storo, o no? Sì, 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 la poletta del Storo è la poletta del Storo, o no? Quella che i nomi hanno appena tutto, o no? Spero che non mi fighi a mangiare la poletta massugana, però, eh? Se sono più di una Storo per mangiare la poletta massugana, cioè, disegur su un dito che non fermo. Ecco, voi sai con i registri put che dopo cacciano. Preghiamo. Esaurisci, oh Signore, la tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Deata Vergine Maria. Speranza e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro, Signore. Amén. Il Signore sia con voi e con il suo Signore. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amén. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della fietà. Amén. A tutti voi che celebrate con fede la festa della maternità di Maria, conceda al Signore della Natività di Maria. Conceda al Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amén. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amén. Nel nome del Signore continuiamo nella pace. Amén. 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 Grazie a tutti. 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 Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da solo in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. La tua tristezza poi se ne andrà via, la tua tristezza poi se ne andrà via, e scoprirà in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola, detta ad un amico che è un po' giù, fare un sorriso che in alto dona. La prima volta che vengo a Bondone, veramente un bellissimo paesino, sarà anche ai margini della nostra diocesi, ma oggi è al centro del mondo per questa celebrazione, questa manifestazione che raccoglie tutta la comunità, che raccoglie gli anziani, alla quale auguriamo di continuare nel migliore dei modi a essere uniti e a fare comunità. Grazie a voi!